Le strade della salute, in collaborazione con Privata Assistenza, da 22 anni al fianco delle famiglie italiane. Affidati al centro più vicino. Privata Assistenza fa la differenza. La salute prima di tutto. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1 a Sforza Costa di Macerata. Benvenuti ad una nuova edizione di Strade della salute, una rubrica dedicata al benessere come stile di vita. In questa puntata parleremo di Centro Associati Fisiomed, un'eccellenza della medicina privata, tumori, le basi nutrizionali, biogreen, alimentazione come prevenzione, patologie dentali nell'infanzia e nell'adolescenza. La novità più importante di questa edizione è la collaborazione con la redazione di Elixir. Ce ne parla l'editore della rivista, ospite con noi in studio, Alberto Gagliardi. Un caro saluto a tutti. Dopo anni di successi di Elixir periodico, come mai l'idea di aprirne un format televisivo? Elixir, dopo i primi anni di attività molto impegnativa ma altrettanto gratificante di informazione medico-scientifica sanitaria, ha deciso di creare una telerubrica con un format interamente dedicato al mondo del benessere e della salute. Questo con l'obiettivo di estendere tramite il mezzo televisivo l'informazione medico-scientifica che abbiamo curato in questi anni con grandissimo impegno e grandissima professionalità e serietà. Riteniamo infatti che non possa esistere prevenzione per la salute senza una adeguata e corretta informazione. Concludendo, vorrei dire che l'informazione medico-scientifica riveste oggi e sempre di più in futuro un importante ruolo ai fini della prevenzione della salute della cittadinanza e sarà sempre più integrata e sinergica con le strutture sanitarie che tramite essa potranno divulgare le nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche. Auguro a tutti una buona visione della nostra rubrica ricordandovi che l'Elixir ha un obiettivo importante da farvi raggiungere il benessere come stile di vita.